Un giovane sport, ma in pochi anni si è già scaltrito nei più raffinati virtuosismi. Lo sci acquatico non ha più nulla da invidiare a quello della neve. E se quello chiede l'impeto dei grandi voli alle balze dei monti, questo si fa regalare gli slanci, la rincorsa per i salti magari con rovesciate, dalle eliche di un motoscafo. Le esibizioni a cui assistiamo sono dovute al campione del mondo Guy de Clair. Quando vuole disegnare l'acqua dei più impeccabili slalom a due, Guy si fa accompagnare dal fratello. Familiare con l'acqua, ma il punto d'onore è di non prendere mai un bagno.